Hanno fatto scoppiare subito una gran polemica le parole del presidente di Confindustria Chieti, Paolo Primavera, quando ha dichiarato il capoluogo di regione, l'Aquila, troppo legata ai campanilismi e poco incline alla condivisione di ruoli e sviluppi economici di carattere regionale. E poi ci ha tenuto a spiegare, mai detto che fosse una zavorra. Io non ho mai parlato di zavorra, infatti è stato detto da qualche altro politico la parola zavorra e ne ho mai pensato sul discorso della zavorra. Ho fatto una considerazione che è quella che l'Aquila si deve assumere una responsabilità di essere il capoluogo di regione. L'Aquila deve prendersi le sue responsabilità e ha l'occasione di diventare il capoluogo di questa regione nell'ambito di tutte le strategie. Ecco, questo era un appello affinché l'Aquila si assume questa forte responsabilità. Rinunciare all'ambizione di grandi infrastrutture di dubbia priorità e pensare al bene dell'economia tutta, senza rivendicare ruoli istituzionali a livello geografico che giustifichino sempre iniziative non condivise con il resto della regione. Non deve esserci più una strategia aquilana, una strategia della costa. Non la voglio più sentire. Questa regione deve ragionare e progettare in senso univoco. Ma portare avanti un progetto di un aeroporto dell'Aquila, ma che senso ha oggi in una regione unica? Allora, quello è un chiaro ed evidente passaggio di voler ancora di più accentuare una situazione di strategie non condivise in questa regione, perché poi sono strategie di carattere economico. Infine, ancora un rimando sul mille volte citato sisma del 2009, soprattutto sul polemizzato post-sisma. Si continua a vedere la situazione nell'ottica di chi vive ancora nella confusione delle prime ore e nessuno pensa a obiettivi di lungo termine, tante le chance mancate. L'Aquila doveva diventare un grande centro di ricerca e fare quegli studi particolari sugli interventi degli edifici vincolati, quindi edifici esistenti, e renderli antisismici con ricerche sui materiali. Poteva diventare un grande laboratorio a livello internazionale, perché non c'è in nessuna parte del mondo. Si è persa anche quell'occasione, perché anche lì l'università, io penso, abbia più guardato come obiettivo entrare direttamente nella ricostruzione più bassa e spicciola e non lavorare a medio e lungo termine, quindi creare un grande polo di attrazione.